allora siamo in dirittura con questo bel libro di mario calabrese molto poetico specialmente alla fine dal premio pulizzo ringraziamenti ho un debito di gratitudine verso quattro amici che hanno aiutato la nascita di questo libro filippo ceccarelli l'ho letto e l'ho discusso con la passione lo scrupolo che sono la cifra della sua vita del suo lavoro con gianni riotta per anni abbiamo camminato per strada la sera parlando degli anni 70 del terrorismo e della necessità che io scrivessi quello che sentivo mi ha incoraggiato e sostenuto con questo progetto tutte le volte che lo mettevo da parte luci conto e michele fusco non sono mai mancati ogni volta che le tempeste dalla politica del giornalismo tornavano a scaricarsi sulla nostra famiglia mi hanno poi aiutato a giro a riflettere a scegliere le vie da percorrere i loro consigli sono sempre stati preziosi e la loro presenza mi ha ricavato